Buongiorno a tutti e benvenuti su Scudrè. Oggi vi propongo un appartamento sito a Riva Trigoso, composto da ampio soggiorno, un angolo cottura, camera e bagno. Adesso stiamo visionando il soggiorno, che direi quasi un salotto, l'angolo cottura che stiamo vedendo, e ricordo che la casa è situata a 200 metri dalle spiagge e da tutti i servizi di Riva Trigoso. Riva Trigoso ha la particolarità di essere adatta sia ai più piccoli, grazie a una passeggiata molto bella con un parco giochi per i bambini ideale, sia per i più piccoli che per i più grandi, e anche per le persone di una certa età è sicuramente una zona molto 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 tranquilla. Ecco qui stiamo visionando l'angolo cottura e adesso andremo a vedere il balcone che affaccia in una zona comunque degli unici palazzi, insomma, di Riva Trigoso e subito di fronte a noi ci sono le spiagge. Comunque molto verde, qui si può anche mangiare, in balcone. E adesso andiamo a vedere invece la camera da letto. La camera da letto è una camera da letto normale, però nell'angolo giù a destra abbiamo anche una cabina armadio decisamente importante. Quindi è una camera da letto che può essere utilizzata in modo classico, con l'armadio matrimoniale, il letto matrimoniale, tutto quello che serve per una camera da letto classica, insomma. Ecco, adesso vediamo il bagno, il bagno con doccia. Vediamo ancora un'ultima carellata sul servizio. E con questo abbiamo terminato la nostra visita. Io vi ringrazio di aver visto questo video con Scudorè e buon proseguimento con i video di Scudorè.